...fonico dell'ultimo periodo e vuoi dire, vabbè ma che cazzo c'entra col blues però in realtà io lo porto proprio perché penso che se non ci fosse stato il blues non sarebbe stato possibile il blues e insomma tutto quel genere che è arrivato attorno a quel evento storico in questo caso, soprattutto dal gospel viene questa cosa qui il pezzo si chiama Stay With Me, è di Sam Smith e fa così ok non c'è fa così grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.